Il barbaro assassino del generale dalla chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile. Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che dalla chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse dalla chiesa, chiedo solo chiarezza. Chiunque pensasse di combattere la mafia nel solo pascolo palermitano e non nel resto d'Italia non farebbe che perdere tempo.